Terza giornata di prove con Porta Santo Spirito e Porta Sant'Andrea in grande spolvero. Partiamo dalla Colombina, la prima a scendere sulla lizza di Piazza Grande. Già Maria Scortecci su Farfalla, marca 2-5 da manuale. Lo segue a ruota Elia Cicerchia che marca 2-4. Tocca a Porta Sant'Andrea. Tommaso Marmorini calca la lizza con lo splendido conte d'arco di Gazzare. Va magnificamente sul 5 nei tiri a sua disposizione. Per Porta del Foro Francesco Rossi su Penelope segna 2-4 e infine un bel 5. Anche Davide Parsi su Biancaneve è altalenante con un 4, un 2 e un bel 5. Poi cambia a cavalla e su Eva marca 2-4 vicini al 5. Su Pinocchio arriva Lorenzo Vanneschi per Porta Crucifera in ottima forma. Marca prima 2-4 e al terzo tiro fa 5. Ottima prova per lui. Molto bene anche per Gabriele Innocenti per i rosso-verdi che su Chicca segna 2-4 e un 5. Nota di colore, una delle riserve di Porta Sant'Andrea, Leonardo Tavanti, ha spezzato la lancia. Raccolta dal famiglio è stata poi mostrata durante la nostra diretta ai telespettatori, vista l'eccezionalità del fatto. E ora c'è grande attesa per la prova simulata di questa sera, seguita come sempre dalla diretta di Teletruria. Domani prova generale, venerdì pausa per le cene propiziatore e sabato sarà davvero giostra.